Ciao ragazze, allora nuovo video, per questo video ho pensato di farvi vedere tutti gli ultimi acquisti beauty e non di fine estate come prima cosa è uscita da Lidl's, quindi del marchio come vedete Sien, una nuova limited edition che si chiama Autumn in New York quindi ispirata appunto per colori e per nome dei prodotti stessi al trend new yorkese vi ho già fatto un video su tutta questa linea che vi lascio come sempre qui sopra e giù nell'info box ho acquistato due prodotti, il primo è questo smalto che si chiama Urban Love che poi è lo smalto che porto su anche in questo momento, quindi come vedete è un colore rosso tendente al marroncino abbastanza scuro e poi ho preso un lipstick che si chiama 47 Carry Kiss e è questo colore, è un colore molto bello, portabile da tutti i giorni mi è piaciuto tantissimo continuando ancora col make up mi era terminato il correttore come sapete io utilizzo per il contorno occhi solo ed esclusivamente quello di Alchemilla e Stick perché è il mio preferito, se è in estate che è in inverno e quindi vado tranquilla con quello ma stavolta ho voluto cambiare perché sono andata da Acqua e Sapone e ho visto che hanno introdotto la linea Natura Verde Bio e ho preso sempre il correttore Stick, questo si chiama 02 Medio il colore è un po' aranciato forse quando sono andata nell'espositore che ho fatto lo swatch del tester non me ne sono resa conto ma sono sincera io lo sto utilizzando ma ragazzi guardate quanto è arancione diciamo che per le mie occhiaie che sono scure è un pochettino troppo ma visto che ormai l'ho acquistato e comunque lo voglio utilizzare perché comunque è un prodotto molto buono con buon inci che nutre anche questa zona diciamo che come texture mi piace, è perfetto ma la colorazione per me è veramente troppo lo sto tamponando con la cipria di modo che smorza un po' il colore quindi diventa un pochettino più chiaro questo mi sembra di averlo pagato 11 euro in omaggio mi hanno dato viette struccanti all'acqua micellare 100 pezzi con estratti bio di camomilla e tè verde adatti a tutti i tipi di pelle che hanno un inci ottimo e hanno un profumo buonissimo ragazzi non le ho mai provate perché le ho aperte adesso con voi passiamo a Shaka che come vedete ho ben due bustine vi parlo infatti dei sal di essence sono andata nell'espositore e ho trovato appunto tantissimi prodotti interessanti in promozione a 1,29 euro e sicuramente tante tante di voi già avranno visto il video in cui vi spiego anche quali sono i prodotti con buon inci ho fatto il pieno di matite labbra infatti inizialmente ne ho prese tre lip liner 08 red blush quindi un rosso tendente un pochettino al fuzia ho preso anche la numero 06 saten meuve che è un colore molto molto bello malva e poi ho preso la ultra last lip liner che fra tutte è la mia matita preferita e questo è lo swatch e proprio oggi visto che mi sono trovata molto bene con questa ultra last ho deciso di acquistarne un'altra perché ho trovato ancora i saldi nel mio espositore essence questa è la numero 04 fucsia romance e ragazze un fucsia davvero bellissimo un colore abbastanza freddo ma che si vede molto la scrivenza di queste ultra last è molto più alta anche rispetto alle due lip liner ho il mosaic blush numero 10 che è questo che ha un inci ottimo e un colore davvero molto bello e molto pigmentato adesso non ho il blush su magari lo applichiamo un attimo insieme guardate ragazze si vede tantissimo è facilmente sfumabile e vi consiglio di provarlo e di prenderlo se lo trovate come rossetto invece ho preso il velvet stick matte lip color 02 peony star e è molto simile alla matita malva che vi ho fatto vedere prima infatti l'ho utilizzata anche con voi nel makeup back to school che vi lascio giù nell'info box e qui sopra andate a dare un'occhiata all'inizio non mi piaceva tantissimo l'odore non è buonissimo però piano piano l'ho rivalutato perché sulle labbra tende a schiarirle ma dà un colore bellissimo e poi ho preso ma me ne sono pentita sinceramente il rossetto long lasting numero 27 che ha un buon inci questo è il colore ma ragazze cioè queste sono due passate sulle labbra non si vede tantissimo questo sinceramente nonostante il prezzo buonissimo non lo riacquisterei passiamo ad un profumo infatti ho trovato in allegato con grazia il profumo la vie belle le cle di lancome ho fatto tantissime instagram stories la confezione come vedete è una mini size piccolissima mi piace tantissimo io naturalmente già l'ho terminato però mamma mia sente tantissimo il profumo è fantastico e sono sincera io lo riacquisterei assolutamente a formato intero passiamo adesso a un acquistino che ho fatto da Kiko questi rossetti in promozione a 1,45 euro ne ho preso uno per provarlo perché comunque non li avevo mai mai visti il creamy lipstick numero 0,1 ha il packaging esterno completamente nero non ha assolutamente un buon inci questo invece è il packaging interno il colore è molto molto particolare è un grigio tendente un po' al rosa adesso lo applichiamo subito insieme questo è il colore sulle labbra come vedete tende un po' a schiarirle da solo non è molto carino mentre magari in combo con una matita marrone o con una base marrone colore può sembrare molto più bello ho fatto un ordine anche sul sito Wicon approfittando delle spese di spedizione gratuite e naturalmente anche qui ho preso un rossetto ma questa volta stiamo parlando della linea mattificent visto che tantissime ragazze ne parlavano bene ne ho voluto provare uno sul numero 12 top io avevo visto gli swatch solamente su internet e ragazzi ce ne sono davvero tantissimi dai nude dai rossi ai fuzia ai rosa ma anche blu verde la confezione esterna riprende il colore che c'è all'interno anche il packaging interno come vedete è nero e appunto del colore della confezione adesso lo applichiamo insieme naturalmente anche questo non ha un buon inci colore molto particolare un grigio tendente al malva abbastanza simile al chico ma è particolare tutti i rossetti hanno un prezzo di 8,90 euro e ragazze durano tantissimo infatti sono molto molto simili ai mac guardate quanto è scrivente questo è il chico questo è il wicon e è a parte un pochettino più scuro ma anche ha ancora più malva dentro vedete il chico come è più morbido ma adesso ragazze passiamo all'armeria pesante dico così perché ho sentito parlare di questi prodotti su instagram su facebook sono le nuove super stay matte ink di maybelline settimana scorsa sono finalmente uscite da acqua e sapone in primis ho preso la numero 15 lover e subito dopo siccome mi sono trovata molto molto bene ho preso la numero 50 voyager dei rossetti liquidi a lunghissima durata durano sulle mie labbra di più rispetto a tutte le altre hanno lo scovolino molto molto simile vedete alle tinte labbra di mac io le sto utilizzando tantissimo mi piacciono molto se vado a prendere un caffè se mangio certo cose troppo oleose le sciolgono sempre se bevo non si tolgono assolutamente le ho trovate in promozione a 9,90 anziché mi sembra a 14,90 adesso applichiamo insieme la lover hanno un profumo buonissimo e non hanno un buon inci l'applicazione è molto molto semplice questo colore lover è bellissimo queste tinte appena si applicano tendono un po' ad essere appiccicose questo è lo swatch di lover tra le due tinte è quella che mi dura di più è la numero 50 lover di cui mi avete chiesto anche sotto un video in cui la indossavo che il rossetto avessi su perché anche questo è carino anche se fra tutti è il più scuro e è molto più autunnale e invernale se sbagliate ad applicarlo io vi consiglio di andare subito con una salvietta e struccare la parte che non va faccio vedere che ho trovato di fior di magnolia da Eurospin una novità della linea Eco Bio Cosmesin tonico viso bio riequilibrante con estratto di magnolia malva e rosa damascata certificato ISEA ha un inci ottimo la confezione contiene 150 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi il profumo è abbastanza buono e in linea con il resto dei prodotti fior di magnolia Eco Bio e è molto bello che ha questo dispenser così di modo che si può dosare bene sempre di fior di magnolia ho visto che ci sono tantissimi profumi e io non lo sapevo dupe di fragranze famose vi ho fatto un video a parte ve lo lascio giù nell'info box e nelle schede e ho deciso di prendere il Pure Charm il dupe della fragranza di Dior Hypnotique Poison la fragranza è proprio identica infatti mi piace tantissimo soprattutto per la stagione invernale e viene 5,99€ un prodotto che sto amando tantissimo in questo periodo è questo shampoo che ho trovato da Panorama e è della nuova linea Arcalia Bio in tantissimi vi avete chiesto una recensione su questa linea di Arcalia perché io vi ho fatto già il video su questi prodotti ma era la linea appunto classica lo shampoo lavaggi frequenti collino e malva 37% di ingredienti di origine naturale ha un inci ottimo e ragazze questa è già la seconda confezione che acquisto perché nonostante c'è scritto che sia un shampoo per lavaggi frequenti su di me lascia i capelli puliti per 3-4 giorni ha un buonissimo profumo ha una consistenza non in crema ma in gel e ragazze per 3,60€ mi sembra è un ottimo shampoo la confezione contiene 250ml di prodotto ha un paio di 12 mesi e in due con questa confezione così grande noi siamo andati avanti per un mese ho fatto bene anche il patatone che soffre tantissimo di forfora da Lidl oggi ho trovato in promozione questi due shower gel in promozione a 69 centesimi e ho preso lo shower gel orange che ha un profumo molto agrumato che non mi piace tantissimo e lo shower gel red sun mamma mia che ha un profumo un po' più dolce e per finire da Lidl ho acquistato due pigiamini attivissimo me sono andata per il patatone perché a lui impazzisce per i minions e gli ho preso questo pigiama qui taglia L 52-54 e lui che ha una 54-56 e gli va perfetto per me ho preso questo qui invece ma passiamo adesso alla cosa che aspettavate da tanto DM ragazzi voi non potete capire cosa ho fatto per ricevere questi prodotti vi spiego al volo mio cognato per lavoro si sposta tantissimo nelle ultime due settimane è stato a Gorizia mandava delle foto sul nostro gruppo Whatsapp in cui diceva che era andato in Slovenia e allora io gli ho detto ma visto che tu vai in Slovenia per caso ti è mai capitato di vedere un negozio che si chiama DM io mi ho detto sinceramente sì perché sono andata al centro commerciale e ho visto che c'era questo DM gigante quando rivai perché non provi a prendermi se li trovi dei prodotti di al verde e mi ha portato questa bustola di DM io sono stata super contenta perché tipo mentre era lì mi ha chiamato faceva allora c'è questo 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 che ti prendo e io per ora mi sono fatta prendere tre cose doccia schiuma profumo di more fortissimo mi piace tantissimo l'inci è perfetto la confezione contiene 250 ml di prodotto poi ha preso queste maschere viso qui alla mera e cetiolo e queste sono tipo una confezione come vedete a due monodose e infine lo shaumbad blaten redden che da quello che ho capito è un bagnoschiuma monodose vi dico i prezzi bagnoschiuma 1,69 euro la maschera 99 centesimi bagnoschiuma monodose ancora 99 centesimi ragazzi io adesso voglio chiedervi una cosa mi dovete scrivere assolutamente nei commenti e consigliare qualche prodotto di al verde se magari dove abitate c'è un negozio al verde avete provato qualcosa fatemi assolutamente sapere di cosa vorreste una recensione cosa mi consigliate bene ragazzi con questo è tutto spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su se vi è piaciuto il video ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale do anche il benvenuto a tutte le nuove iscritte che sono davvero tantissime e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video un bacione ciao ciao